Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salopimpos e oggi siamo su un nuovo gioco horror della Domenica Horror ovvero Slenderman Hide and Seek un gioco online in cui possiamo impersonare sia Slenderman sia gli studenti a quanto ho visto qui nelle statistiche quindi possiamo impersonare sia Slenderman sia gli studenti ovviamente abbiamo tutta una serie di statistiche per ognuna di esse quindi andiamo indietro e vediamo di iniziare con Slenderman possibilmente, fatemi fare sempre Slenderman, va, ma Quick Join, Custom Game Quick Join, forza, veloci, veloci, forza, fiamdatevi in una partita dove faccio lo Slenderman, possibilmente aspettando altri giocatori, ok, Kaleng è entrato, io sono primo forza fatemi fare lo Slenderman, Kaleng, giochiamo in due Kaleng invita le quattro tuoi amichetti, va, Kaleng è the last one fatemi fare lo Slenderman almeno così mi diverto di più, forza, forza sei Slender, lì finalmente, il tuo obiettivo è trovare e eliminare tutti gli studenti prima che loro trovino tutte le bambole ogni bambola trovata riduce la tua vita di uno le bambole possesse trovate nelle ceste adesso vi distruggo vi distruggo, sono lo Slenderman ragazzi aspetta che devo fare adesso con questo questo grido, così rompo un po' di scatole con questo che faccio, questo ho il polipo qua bloccato non succede niente dove siete che adesso, peccato che non siete in prima persona dove siete, maledetti, chi è? già mezza bambole qua, aspetta vi distruggo le bambole, così non ve le prendete niente, non posso attaccare io niente, andiamo di qua dove siete? bambini io posso prendere qualcosa, no? io devo trovare solo gli studenti, giusto? venite qua, studenti, dove vi nascondono che lento però, posso correre? niente un po' più veloce, ma niente di che venite qua, maledetti dove siete? no, una bambola è stata distrutta da chi? da chi? che non c'è nessuno qua sei un invisibile, bellissimo ok, buttiamoci di qua, tizio ma muoio se cado da qua, aiuto no, no e che ho fatto il giro? niente, sono uscesto di nuovo qua che c'è? eh, gain rage ok, la furia la furia ma dove cacchio sono i nemici qua? sono rimasto da solo io con lo slenderman di qua, vediamo, non c'è nessuno scendiamo di qua che fine avete fatto tutti? un'altra bambola è stata distrutta meglio così vieni qua, pezzo vieni qua, ti sciuccio l'anima come se non ci fosse un domani ma non si è accorto di niente quello, poverino ok, andiamo di qua dove sono i tuoi amichetti, ah? dove sono? ok, adesso vi distruggo vi distruggo vi distruggo dove sono i tuoi amichetti? di qua c'è niente scendiamo di qua di qua c'è niente vediamo, vediamo, vediamo amici dove siete amici? dove siete? dove siete amici? dove siete? chi è? ho vinto ho vinto ma perché ho vinto? che è successo? vittime catturate due e una veramente ne ho uccise vabbè, pazienza meglio così andiamo, andiamo, andiamo alla prossima battaglia battaglia tra virgolette battaglia finalmente sono riuscito ad impersonare lo slenderman cosa che non mi era mai successo quindi adesso nelle statistiche dovrebbe ok, vittoria 1 con lo slenderman perfetto andiamo start start quick join di nuovo vediamo un po' con Toriano e io con Toriano mi sa che stavolta farà lo slenderman sei uno studente il tuo obiettivo è trovare 5 bambole di slender le bambole possono essere trovate nel chest oh, abbiamo cambiato pure ambiente ciao tizio come cacchio è cammino? devi fare la cacca tizio cacchio è staco e io forse pure così cammino però ok, dobbiamo trovare le chest con le bambole di slender tizio quindi, avanti una qua forza apri qua tizio come si aprono ste cose avanti apriamo qua vai vai tizio veloce perché sento rumori brutti e credo che quella sia morta veloce tizio veloce tizio veloce prendi qua che è un medikit? aspetta che è lo slender? quello via via aiuto via via veloce tizio veloce pure com'è che quello mi attacca da lontano e io non riuscivo ad attaccare quello mi segue sicuramente qua c'è una cassa ma quello mi segue quello mi segue aiuto come faccio a scappare da sto tizio? velocemente pure aiuto mi insegue lo slender perché tizio? perché segui solo me? abbiamo una mappa così grande perché segui me? fammi capire tizio e che faccio io tizio? vabbè io lo attiro e gli altri miei amici che prendono le bambole a sto punto mi segue? e ti pare che scemo? no l'abbiamo perso perfetto no l'ho ancora qui e dai fammi prendere le bambole forse lui è più lento degli studenti effettivamente quindi io posso scappare ma però lui mi trova dobbiamo nasconderci assolutamente adesso mi nascondo qua dietro vediamo se mi vedo ma che mi colpisce da lontano abbiamo perso meglio così collezione bambole la collezionata è zero andiamo a fare l'altra partita andiamo andiamo quick join andiamo oh adesso siamo un po' di più niente uno se ne andò meglio così e io sono chi è? sono lo studente e che paura e dai voglio essere slenderman una volta solo mi avete fatto fare lo slenderman ciao tizio ok pure tu devi fare la cacchina andiamo va seguimi tizio qua ci sono un po' di teschi scheletri eccetera ma dobbiamo cercare qualcosa andiamo di qua qua non c'è niente andiamo di qua andiamo di qua ora mi devo ritrovare lo slenderman qua davanti lo distruggo già mi sono fatto danno da caduta pure bellissimo qua che abbiamo? funghetti qua che abbiamo? niente là c'è un tizio che ho messo in modo posizione un po' strana tizio ma come sei morto? fammi capire ancora sei all'impiedi ancora sei in ginocchio andiamo di qua là c'è un orb vediamo che cosa mi dà l'orb andiamo di qua che prendiamo? hai attenuto la rigenerazione bellissima ma attualmente non mi serve dobbiamo trovare le casse quindi qua sotto credo che non ce ne siano andiamo sopra va io ho paura qua qua mi spunta lo slender una cassa qua qua c'è cassa? no andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua ora mi spunta lo slender man vedi che è prio andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua infiliamoci di questa porta niente saliamo le scale di qua di qua c'è un altro orb ma le bambole che fanno le vado a comprare al mercatino fammi capire fammi capire dove l'avete messa ho ottenuto la mappa bellissima usiamola pure e come? come si usa la mappa? si sta ricaricando si sta caricando devo aspettare pure che si carica per usare la mappa benissimo bello bello andiamo di qua qua non c'è niente qua non c'è niente qua vedo niente qua niente un orb tutto orbio trovo hai ottenuto la chiave di qua di qua di qua non c'è niente di qua tizio cammina tizio tizio cammina che se c'è lo slender dietro ti distrugge dimmi di qua dimmi di qua dimmi di qua oh ma la cassa che fino hanno fatto cacca l'avete infiate tutte le casse in quella mappa si trovava uno ogni metro e qua niente vabbè risale saliamo 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 di qua saliamo di qua altri teschi altri scheletri morti andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua tende qua non c'è niente qua non c'è niente che fa salgo sempre io salgo sempre me lo vado proprio dall'apice della torre andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua l'energia mi sta finendo perché perché l'energia mi sta finendo cioè non ho fatto niente mi finisce l'energia fammi capire ma perché sono morto questa non l'ho capita dai fatemi fare lo slender vi prego una sola volta me l'avete fatto fare non è giusto aspettando altri giocatori semmai si faranno vivi tu sei slender oh finalmente finalmente dai vi spacco stavolta vi distruggo tutti di nuovo qua avanti qua vedo qualcosa un coniglietto cos'è sto coniglietto muori testa di che cacchio ci stai a fare qua muori 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 perché non muori muori tizio muori quanta energia hai che cacchio ti sei mangiato 40 biscotti con il latte andiamo di qua oh adesso vi distruggo tutti forza adesso vi grido come se non ci fosse un domani dove siete dove siete dove siete piccoli dove siete adesso sono invisibile bellissimo adesso cerchiamo di vedere anche gli altri perché con questa invisibilità io non vedo niente nemmeno io fantastico quindi vediamo ah un altro ne dobbiamo uccidere forza avanti con lo slenderman io sono bravo ah io urlo praticamente scopro dove sono i nemici ora si ecco perché mi scopriva sempre però lo slenderman è invincibile praticamente la dolla è stata si ma io ti uccido tizio non è che non è che scusami scusami tizio io qua c'ho la cosa ok uccisi ragazzi con lo slenderman io sì io sono nato slenderman io sono slenderman dentro non è che non è che sono nato io studente per farmi uccidere io sono nato slenderman un altro va vediamo se riusciamo a fare lo slenderman di nuovo che mi diverto un mondo stavolta sono studente il tuo obiettivo è trovare cinque bambo ma io non le trovo non so giocare da studenti ho trovata 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 subito via 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 prendi la veloce tizio ma io non capisco perché mi perché mi si si toglie la barra qua dell'energia senza fare niente questo non lo capisco allora tizio prendi qua ok oh finalmente una bambola l'ho trovata pure io forse ne dobbiamo trovare altre quattro cacchia la miseria prendiamo l'orb prendiamo l'orb ok ho trovato la mappa un'altra cassa via di cassa veloce veloce tizio che qua lo slender ci vede attiva quello che rida e scopre dove sono i nemici veloce veloce prendiamo qua tutto tutto il mondo deve essere mio tutte le bamboline maledette devono essere mie niente un medikit niente la mappa come si usa la mappa non ho capito come si usa la mappa andiamo di qua un orb e cerchiamo di evitare ah ecco la mappa nel senso che io vedo le frecce da lontano questo significa la mappa eh ma se non me le dite le cose però ogni volta me le devo inventare io forza veloce veloce tizio veloce che sento rumori brutti e molesti veloci veloci veloce 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 ok un altro medikit e da questi medikit mi servono le bambole andiamo di qua perché io ho paura che lo slender sia qui vicino ok ho tenuto l'adrenalina adesso corro come se non ci fosse un domani via velocissimi 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 ecco perché quello mi ha distrutto oh perfetto prendi qua la chiave tizio apri più velocemente forse con la chiave forse si ok prendiamo qua eh medikit dove le avete nascoste le bambole veloce tizio siamo su 3 su 5 vai un'altra cassa via di cassa via vedi cassa veloce 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 eh perché tutti questi medikit dove sono le bambole saliamo sopra ora trovo lo slender dove sei non ci cassa cassa veloce cassa prima che si esaurisca qui la cosa è la chiave prendi qua prendi qua niente medikit niente qua le bambole non ce la mettono però medikit sole basta utili ma le bambole sarebbero anche utili che è sta cosa qua una ragnatela come la come la ah passa attraverso bellissimo bu ah tizio apriamo qua adesso ci metterà un po' più di tempo però perché adesso l'abilità si è tolta hai sento rumori ne mancano due per vincere ok dai oh finalmente bambole medikit perfetto un'altra cassa qui cerchiamo di vedere dove è lo slender lo slenderman pure ma qual è facile però con lo slender quello attiva il suono lì e mi vede quindi non è che ho tante speranze via l'ultimo quanto quanto ne ho presi ho vinto ho correzionato tre bambole abbiamo vinto ho vinto anche da studente ho vinto due da studente due da slenderman ragazzi una cosa veramente fighissima e il gioco è abbastanza carino devo dire purtroppo ci sono le pubblicità quindi ce la dobbiamo sorbire se vogliamo giocare quindi da soltanto vi piacerebbe piacere vi piacerebbe piacere di lasciare un bel like vi ricordo di poter seguirmi anche sul blog su facebook su twitter segremmo tutti i dati social di cui trovate il link in descrizione iscrivetevi al canale e per oggi è tutto al prossimo video se oggi torniamo su minecraft pocket edition l'ultima volta abbiamo visto i lama li abbiamo portati qui molto difficilmente ma ce li abbiamo portati finalmente e quindi vi presento l'amino e l'amina bellissimi